Siamo in via dell'Edriadi a Francavilla al mare dove al secondo piano di questa palazzina numero 50 nel tardo pomeriggio scorso si è consumato un dramma, una vera storia di disagio. Il figlio ha colpito alla testa la madre di 94 anni utilizzando una padella per persone allettate e Giglio Trivarelli, 5 a 8 anni sembra sofferente di problemi psichici, è stato bloccato e portato in caserma dai carabinieri, la sua posizione al baglio dell'autorità giudiziaria. Una storia drammatica questa, l'uomo ha scritto una lettera a una conoscente prima di fuggire avendo probabilmente pensato di aver ucciso la madre, nella lettera scritto inoltre che ha ferito la donna che da mesi aveva problemi di salute perché era stanco di vederla soffrire in quelle condizioni e ha manifestato la volontà di ammazzarsi, poi si è allontanato. La 94enne Stella Masciarelli fanno sapere dall'ospedale di Pescara dove è stata ricoverata in codice rosso e stabile e le sue condizioni sono sotto osservazione. La procura di Chieti ha aperto un'inchiesta, potrebbe essere ipotizzato il tentato omicidio sul posto i carabinieri della stazione di Francavilla, quelli del nucleo operativo radiomobile e gli operatori del 118 di Chieti. Poco dopo l'aggressore è stato individuato e bloccato dai militari dell'arma nelle vicinanze di questa abitazione. L'uomo è apparso in buone condizioni di salute ed è stato portato in caserma. All'interno dell'appartamento sono andati avanti fino a tarda ore i rilievi dei carabinieri della compagnia di Chieti agli ordini del colonnello Massimo Dilena che stanno conducendo le indagini per ricostruire nel dettaglio ogni fase dell'aggressione. Dicevamo una storia drammatica ma anche di disagio, non l'unica. Noi abbiamo ascoltato il sindaco di Francavilla al mare, Luisa Russo. Eh sì, sono episodi di cui sentiamo parlare, spesso fatti di cronaca che non accadono qui a Francavilla, quindi quando poi accadono nella tua terra, nel tuo territorio ovviamente segnano e colpiscono di più. Sappiamo che il problema dell'assistenza alle persone anziane, persone diversamente abili è un problema grande e in questo caso probabilmente magari uno stress di natura psicologica ha portato a un evento del genere. Erano persone non note ai nostri servizi sociali, mi sono informata di questo, persone che non avevano particolari problemi né dal punto di vista proprio del disagio sociale né dal punto di vista del disagio economico per cui non ne arrivavamo a conoscenza. Certamente ce ne faremo carico probabilmente insieme ai servizi sociali di Canosa Sanita dove la signora è residente. Grazie. Grazie. Grazie.